Buongiorno Oh Gabriele, se ci sei, batti un colpo. Ma i nuovi. Ciao, Franci. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i club e responsabili che hanno partecipato alla manifestazione. Buongiorno a tutti i club e responsabili che hanno partecipato alla manifestazione. Andiamo a tutti i club e responsabili che hanno partecipato alla manifestazione. E questo oggi mi commuove veramente, veramente di cuore. Applausi. 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 Io ringrazio tutti voi per essere venuti qui oggi. ringrazio. Applausi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.